Ok, quarta giornata serie A Probabili formazioni Bologna Udinese Previsione X Bologna Vigliano Esposito Portanovo Morazzo Rubin Mudinga Migionini Perez Caserini Jimenez Zapata Domizzi Pasquale Pinzi Indra Samoa Abdi Sanchez Flores Brescia Serini Berardi Bega Martínez Zellamano Etemi Cordoba Filippini Ardemanzi Eder Carasso Roma Ubi Serci Rossi Max S1 Cassetti Pizarro Bridi Menes Perrotta Vucines Borriello Cagliari Sampdoria Previsione X Cagliari Ragazzi Pizzano Canini Astoria Agostini Biondini Lengola Pinardi Cossu Matri Acqua Fresca Sampdoria Curci Zauvi Calzardello Lucchini Pallumbo Dessena Guberti Pozzi Pazzini Cacchini Ciccina Previsione Pallumbo 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 Ch meillä Basti Pallumbo 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 gypto Favol Pav Arms Pallumbo Vissignore Chieta Pallumbo Maldita Laban Bacchini רbас Grand Cardo, La Fiore, Lucarelli, Antonelli, Vialiani, Morrone, Candreva, Gionico, Marquez, Crespo Napoli, Chiavo, Previsione 1, Napoli, De Santis, Grava, Cavana, Marta, Bagnano, Margio, Pacienza, Gargano, Dossena, Amsi, Clavesi, Cavani, Chiavo, Solentino, Freire, Anderoni, Mandelli, Lantovani, Bentivoglio, Rigoni, Marcolini, Bogliacino, Grano, Cepe, Grissier